Lato l'acqua Ma è quest'acqua? Per non far attaccare il riso E questo è Uramaki Sono il domano Com'è che sono i nomi? Non ho capito Com'è che si chiamano quei due lì? Osso-Maki Uramaki E cosa vuol dire Osso-Maki Uramaki? Uramaki Piccola fiore della montagna e piccola fiore del mare Ma ok Quanto spesso deve essere? Non troppo Ok, basta Giustale Giustale, fai vedere Impressa ben bene Troppo, bisogna sottile Se si risponde Guarda Fuori, tu l'ho preso Ehi, questo l'ho preso Sesame Capito? Troppo riso fuori Tipo Luke inizia Ti danno sempre un sacco di riso Così ti impastano Ti danno un sacco di riso Magi che sono impastati Così dopo un po' ti stoppano Ma Di più Di più Ora Rombino Schiaccia Poi Cilla Così proprio Occio Fallo veloce Yes Ok Poi cosa mettiamo? Filadelfia Un po' Facciamo uno con i gamberetti E' vero i gamberetti Eee Ho sempre voglio mettere in bocca Grazie Ah l'avvocato Beh i gamberati puoi mettere anche qualcuno in più Mi sa Eh sì Non troppo Non c'è perché tu non devi chiuderlo Oh per chiudere è proprio Ok Ma non c'è Ma non c'è Come? Sta scivolando Ok lo devo tenere L'alga sta spostando l'alga Square Square o non square? Square Poi? Avanti Avanti Aspetta Aspetta E' abortito questo Ma io lo mangerò lo stesso Faccio un'oltre Ma devo aprire sempre Sì sì Avanti Avanti Ancora di più? Yes Puoi girare? Non è chiuso Non l'ho chiuso Eh 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 Una punta Ok Triangolo Triangolo Facciamo triangolo Triangolo? Triangolo Ah sì giusto Triangolare Se può Se può Se può Se può Se può Se può Quando tagliare Facciamo fiori Ok Ok La prima Brava 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 Grazie